Oggi vi chiederò di fare un percorso un po' particolare e di, come dire, ascoltare un linguaggio che non è così, come dire, sempre conosciuto e confidenziale per gli psicologi, perché parleremo di numeri. Le ricerche di cui vi parlerò sono state condotte grazie al fatto che si sono creati, come dire, delle sintonie tra il CISMAI, che è questo coordinamento nazionale dei servizi che si occupano appunto di contrasto al maltrattamento e all'abuso all'infanzia, che è un organismo che esiste da più di vent'anni e a cui aderiscono più di 80 tra centri e servizi sia nell'ambito pubblico che privato. E quindi il CISMAI ha pensato appunto di creare dei progetti utilizzando come partner altre associazioni a livello nazionale e internazionale importanti, in questo caso è stato Terre des Hommes e ha coinvolto successivamente anche l'Università Bocconi di Milano proprio per la parte, diciamo, più di studio e di competenze tecnico-statistiche, dal momento che l'obiettivo era quello di avere innanzitutto una prima mappatura del fenomeno del maltrattamento sui minori a livello nazionale ed è stato il primo lavoro che ha fatto il CISMAI con la collaborazione di Terre des Hommes. E questo ha costituito una sorta di piattaforma per avere almeno dei dati su quanti sono i bambini vittime di maltrattamento e abuso. Successivamente, quindi questa è stata una prima indagine un po' sperimentale, un po' magari anche con mezzi così semplici, un po' anche una scommessa che però nel 2012 ha portato ad avere questa prima mappatura. Su questa piattaforma è partito poi il lavoro successivo di valutazione di quelli che sono i costi sostenuti appunto dallo Stato, quindi dalla spesa pubblica, non tanto come dire per occuparsi dei bambini in difficoltà o vittime di abuso e maltrattamento, ma sono i costi che sono dovuti ai mancati interventi di prevenzione e di contrasto al fenomeno dell'abuso e maltrattamento. Non potendo appunto negli interventi e nelle politiche dei servizi, delle istituzioni, contrastare questo fenomeno che è molto ampio, se ne devono gestire poi le conseguenze, i danni. La dottoressa Simonelli, che io ringrazio perché ha dato un quadro effettivamente dell'impatto che queste esperienze sfavorevoli infantili hanno sull'individuo e anche la loro ripercussione a lungo termine nell'arco di vita, quindi poi ci troviamo a gestire i costi conseguenti per occuparci di queste vittime e di questi pazienti. L'ultimo accenno a cui farò oggi, approfitto del fatto che 15 giorni fa è stata presentata ufficialmente la seconda indagine nazionale per rilevare l'entità del maltrattamento in Italia. Questa volta si è ampliato, grazie come dire anche all'interessamento del Garante Nazionale dell'infanzia, questo lavoro di mappatura dei minori vittime di abuso e maltrattamento e con la collaborazione appunto dell'Ufficio del Garante Nazionale, dell'Istat, che ha creato una campionatura, come dire, più precisa e degli enti da interpellare proprio per la raccolta dei dati, è stato possibile quindi aggiornare e avere questa seconda mappatura rispetto appunto a quanti sono i minori vittime di abuso e maltrattamento, quali le tipologie e anche di quali interventi usufruiscono da parte dell'istituzione nel momento in cui vengono presi in carico. Allora, vi chiederò appunto di avere la pazienza di seguire un linguaggio che appunto magari non c'è così familiare, ma che dobbiamo pensare da delle rappresentazioni poi della realtà. Ci aiuta ad avere delle rappresentazioni un po' più oggettive, mentre a volte, come dire, possiamo avere delle rappresentazioni soggettive o impressionistiche di questo fenomeno. Da allora, spesso anche perché non veniamo molto aiutati da un'informazione corretta. E quindi i dati sono molto utili, molto importanti. Allora, procediamo con... Ecco, questo è lo studio nazionale di cui vi parlavo, che è stato poi presentato nel 2013 e che ha visto la collaborazione CISMAI, Terre des Hommes e Università Bocconi. I dati a cui facevano riferimento un po' a coloro che si occupavano di valutare quanto era in un altro trattamento, fino a quel momento i più recenti erano quelli che davano l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sull'ambito però europeo, non sull'ambito nazionale. E già erano numeri molto impressionanti, perché in questo rapporto pubblicato proprio nel 2013 si parlava, per esempio, che 852 bambini sotto i 15 anni muoiono ogni anno in Europa vittime di maltrattamento e la percentuale più alta è nei bambini sotto i 4 anni di età. Il 13,4% delle bambine, il 5,7% dei bambini sono vittime di abuso sessuale. Il dato in valore assoluto 18 milioni in Europa. 22,9% è vittima di violenza fisica, 44 milioni, e il 29,6% di violenza psicologica, 55 milioni. Certo, questo è il bacino europeo, però in Italia cosa succede? Allora, già ci siamo detti che il costo del maltrattamento è altissimo non soltanto per l'impatto immediato sulla salute psicofisica del bambino, ma anche per gli esiti che ha nel processo di crescita. E che quindi i costi andranno studiati, quelli diretti, così li chiameremo in questa ricerca, perché sono quelli che riguardano l'intervento immediato e a breve termine, e quelli indiretti che riguardano poi gli investimenti e le azioni successive che accompagnano questi individui in difficoltà nell'arco della loro vita. E che i costi non sono soltanto per azioni erogate, ma sono anche per quel deficit che gli individui poi accumulano nelle loro competenze sociali, personali, relazionali, affettive, lavorative. Per cui c'è addirittura una perdita di reddito e di produttività che anche quella va a incidere sul PIL. Ecco perché se siamo abituati a pensare che il maltrattamento ha esiti dannosi di tipo fisico, emotivo, cognitivo, comportamentale, dobbiamo aggiungere anche quello economico. Ed è importante anche focalizzare che finora lavoriamo nella protezione e nel trattamento e questo comporta un costo, quindi incide negativamente sui bilanci sulla spesa pubblica. Mentre invece l'azione opposta che è quella della prevenzione non può essere più costo soltanto ma è investimento perché è in grado di generare nel futuro un risparmio sulla spesa. Allora, lo studio della Bocconi e del CISMAI si occupa appunto di analizzare costi diretti e costi indiretti, a breve termine e a lungo termine. L'anno di riferimento che è stato scelto perché c'era disponibilità di dati è stato il 2010. E i filoni di analisi sono stati di due tipi. Allora, un'analisi di prevalenza che vuol dire, domandiamoci quanti sono gli eventi, in questo caso il fenomeno, quindi la numerosità di questo evento maltrattamento nella popolazione di riferimento e quindi poi la spesa conseguente in un anno legata a questa prevalenza dell'evento maltrattamento ma anche poi l'analisi di incidenza che riguarda quindi i casi, i solo nuovi casi dell'anno 2010 mentre prima avevamo tutti i casi presenti nella popolazione nell'incidenza ci si focalizza solo sui nuovi casi e sulla spesa richiesta per l'intervento su quei nuovi casi. Allora, vi dicevo che la piattaforma di partenza per capire qual è la popolazione di riferimento poi per la ricerca stessa è data Allora, andiamo un po' veloci Ecco, nella ricerca fatta, nella prima mappatura di cui vi parlavo fatta da Cismeter de Zom, sono state indagate le cinque forme di maltrattamento a noi note quindi servivano i dati su questo quando è stata fatta la rilevazione maltrattamento fisico, abuso sfruttamento sessuale, psicologico, le patologie della cura, la violenza assistita Quindi, quali erano le fonti a disposizione di chi ha fatto la ricerca poi all'Università Bocconi? Potevano utilizzare, per quanto riguarda il dato di prevalenza quindi quanto numeroso è questo fenomeno nella popolazione la ricerca che è stata appunto condotta nel 2011 da Cismeter de Zom e pubblicata poi nel 2012 la ricerca consisteva nel rivolgere ai comuni una scheda in cui avrebbero indicato il numero di minori presi in carico alla data del 2012-2011 quali di questi minori erano in carico per un problema di abuso, grave maltrattamento secondo appunto le tipologie che prima abbiamo visto e la ricerca partiva chiedendo la partecipazione a 50 comuni sono stati 31 quelli che poi hanno risposto con dei dati idoni per essere poi introdotti nella ricerca per quanto riguarda invece lo studio di incidenza ci serviva a capire nell'anno 2010 in cui si voleva fare la valutazione dei costi che dati c'erano a disposizione purtroppo appunto in Italia non abbiamo un sistema informativo nazionale ci si è basati quindi su l'unica fonte che poteva dare in qualche modo un riferimento sicuro ed era la fonte del Ministero dell'Interno ma del Dipartimento di Pubblica Sicurezza che registra le denunce relative a reati nei confronti di minori che però ovviamente sono reati che coprono alcune delle forme di maltrattamento come l'abuso sessuale, il maltrattamento fisico e la corruzione di minorenne ma non la trascuratezza quindi abbiamo dei dati sia come dire in valore assoluto che percentuali dell'anno 2010 con questo tipo però di limite ecco allora scusate volevo solo farvi notare perché poi questo numero ritornerà che prendendo le tabelle proprio del Ministero dell'Impartimento di Pubblica Sicurezza anno 2010 il totale dei minori che hanno subito una forma di maltrattamento e abuso a cui seguita una denuncia all'autorità giudiziaria sono conteggiati in 10.418 la tabella ha un po' l'andamento dal 2005 al 2011 e quello è il dato di riferimento per il 2010 allora procediamo un po' veloci allora la ricerca della Bocconi si occupa appunto di stimare la prevalenza su scala nazionale e è importante dire che la prevalenza può riguardare il numero di soggetti che rientrano in questo tipo di evento indipendentemente da quando poi l'evento si è verificato nella loro vita purché come dire siano noti come soggetti presi in carico per quella tipologia allora questo è il campione dei 31 comuni che hanno risposto alla ricerca e che hanno dato questi esiti le loro schede di rilevamento dei loro utenti minori allora qui 31 comuni coprono circa una popolazione di 5 milioni di abitanti il 7,4% rispetto ai residenti di tutta Italia i minori sono 758.932 di questi in carico ai servizi sociali 48.000 quindi il 6,36% dei minori residenti in questi 31 comuni sono seguiti in carico ai servizi di questi, di questo bacino quanti sono quelli che sono seguiti per maltrattamento in valore assoluto 7.500 il 15,46% del totale dei minori presi in carico rispetto ai minori residenti da cui siamo partiti il valore è 0,98% quindi su quella popolazione residente in quell'ambito territoriale geografico monitorato di tutti i minori che vivono lì lo 0,98% è vittima di maltrattamento quindi arrotondando il calcolo un bambino su 100 è in carico ai servizi per una forma di maltrattamento questo era il primo risultato della ricerca moltiplicato per il numero dei minori che sono residenti in Italia sempre nell'anno 2011 quando è stato fatto poi il monitoraggio la Terre des Hommes che sono 10 milioni erotti ne emerge che nel nostro paese in quell'anno 2011 ci sono 100.252 minori vittime di maltrattamento o abuso il famoso 0,98% la torta vi rappresenta poi le varie tipologie e quindi anche le percentuali con cui si verificano 52% la trascuratezza comunque le patologie della cura negligenza il maltrattamento fisico 4,80% l'abuso sessuale 6,70% la violenza psicologica 12,80% la violenza assistita 16,60% devo dire che come Cismay mi fa specie il valore dei 16,60% della violenza assistita considerato che negli ultimi due anni stiamo facendo veramente dei percorsi di formazione e di studio proprio su questa nuova tipologia di maltrattamento i dati dicono che ne abbiamo motivo procediamo allora ok bene eccolo qui allora prima parte della ricerca si occupa di studiare la prevalenza e dice quali sono i costi diretti quelli a breve termine e quali sono i costi indiretti allora tra i costi indiretti sono stati valutati quelli relativi a ospedalizzazione dei casi più gravi la cura della salute mentale quindi il trattamento psicologico dei bambini vittima le spese per il welfare che vuol dire strutture residenziali che vuol dire affidamento familiare che vuol dire interventi sempre di tipo sociale o domiciliare ecco quindi prestazioni di tipo sociale le spese dovute agli interventi delle forze dell'ordine alla giustizia minorile stante che queste situazioni coinvolgono anche le componenti di pertinenza nel tribunale per i minorenni e di pertinenza dei tribunali penali i costi indiretti allora la dottoressa Simonelli ben ci spiegava l'impatto che ha sul cervello e sul funzionamento poi mentale di bambini e quindi il problema dello svantaggio scolastico perché l'apprendimento è uno degli ambiti in cui questi bambini questi pazienti necessitano spesso di percorsi di aiuto e di sostegno prolungati certificazione scolastica e quant'altro poi costi indiretti è la cura della salute man mano che si avvicinano all'età adulta e manifestano spesso delle patologie di tipo fisico o di tipo psichico molti di loro purtroppo molti nel senso che ci sono delle percentuali che poi vedrete hanno probabilità di più di altri pazienti altri individui adulti di inserirsi in percorsi di criminalità adulta e quindi di fare poi l'esperienza della carcerazione oppure di farla in età più precoce quindi nel periodo appunto in cui entrano nel circuito della delinquenza giovanile e infine quello che vi dicevo prima una perdita di produttività per la società dovuta al fatto che queste persone hanno difficoltà nell'inserimento lavorativo oppure come diranno una possibilità di carriera di entrata economica di stabilità lavorativa inferiore rispetto agli altri adulti ok allora devo fare molto veloce allora invece di farvi vedere le tabelle singole delle spese andiamo a vedere la tabella riassuntiva allora questa è la tabella riassuntiva dei costi diretti sì 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 sicuramente tra l'altro la ricerca è disponibile nel sito le cismai e quindi tra i documenti pubblicati è presente la ricerca quindi facilmente poi scaricabile allora sintesi dei costi diretti ospedalizzazione cura salute mentale eccetera calcolati appunto su quel bacino piattaforma che vi dicevo dei 100.000 bambini allora 338.616.000 erotti euro questi sono i costi diretti i costi indiretti ve li ho elencati prima 338.000.000 ok questa è la tabella che riguarda invece lo studio dei costi indiretti quindi praticamente si è andata a valutare in un arco di tempo più o meno lungo a seconda della tipologia di intervento quanto andavano incidere le azioni quindi spesa per lo vantaggio scolastico spesa per la cura della salute degli adulti spesa per la criminalità adulta andiamo ai successivi delinquenza giovanile perdita di produttività non mi soffermo perché non abbiamo molto tempo il totale i costi indiretti sono 12.717.000 7.747.000 erotti euro allora conclusa l'analisi di prevalenza prima parte della ricerca mettiamo insieme costi diretti e indiretti e poi facciamo il rapporto con il PIL nazionale i costi nell'ambito dell'analisi di prevalenza totali sono 13.56.000.000 erotti che corrisponde allo 0,84% del PIL nazionale 13 miliardi calcolando che i bambini di riferimento vittime fossero 100.000 ne ricaveremo quel dato importante per cui ogni bambino costa allo Stato se vittima di abuso o maltrattamento 130.000 euro ogni anno l'altra parte dello studio dice andiamo a vedere l'incidenza cioè quanto vanno a costare i nuovi casi in particolare erano quelli del 2010 usiamo gli stessi parametri perché gli interventi che vengono svolti sono quelli di prima però sono riferiti ai casi dell'anno i casi nuovi che vanno ad aggiungersi gli altri il bacino la piattaforma di riferimento non poteva più essere quella della ricerca di tardesommi 100.000 bambini perché non potevamo dire sono tutti maltrattati nell'anno 2010 per il 2010 la piattaforma di riferimento era solo quella delle denunce all'autorità giudiziaria 10.418 minori e per le tipologie appunto di rilevanza penale ok l'altra cosa che bisognava fare per capire l'incidenza è bene quest'anno questi sono tutti casi nuovi però dovremo fare degli interventi a breve termine avremo dei costi diretti e dovremo programmare degli interventi che andranno avanti nel tempo e quindi fare delle proiezioni nell'arco di vita e quindi sono stati fatti tutti dei calcoli specifici per ciascuna tipologia di intervento su quanto tempo si verificano nell'arco di vita della persona il punto di riferimento è stato l'età media del maltrattamento in base alla valutazione statistica dei dati è i 12 anni quindi l'età media dei bambini che arrivano a essere presi in carico per maltrattamento 12 anni questo non vuol dire che è iniziato a 12 anni il maltrattamento ma che è il momento in cui viene emerge e quindi come dire si entra poi nel circuito del servizio e l'arco quindi la cosiddetta finestra temporale per il lavoro di proiezione dei costi è andata a coprire fino ai 60 anni considerata la cosiddetta età pensionabile della ricerca statistica e quindi abbiamo interventi che possono anche coprire un periodo molto lungo o possiamo avere dei danni pensate alla mancata produttività su un periodo molto lungo di un adulto lavoratore per esempio ok questa è la tabella con il totale dei costi diretti per l'anno 2010 casi nuovi 378 milioni e rotti euro questa è la tabella dei costi indiretti 2010 casi nuovi 531 milioni di euro questo è il totale ogni nuovo anno 2010 fa da paradigma affrontiamo un costo che si va ad aggiungere di 910 milioni di euro per i soli casi nuovi 910 milioni il totale dei costi 0,06% del PIL cerco di arrivare velocissima allora questa tabella che è inclusa nella ricerca dice solo una piccola cosa interessante quant'è la spesa dei comuni a favore dei minori questo è un punto un dato istat suddiviso per regione la nostra regione spende pro capite per minori residenti 206 euro i nostri vicini di casa Trentino 350 euro Friuli Venezia Giulia 365 tanto che poi il dato nel nord-est sale grazie al fatto che sono gli altri a spendere di più certo non siamo la Calabria che spende solo 55 però potremmo anche interrogarci no? ecco e questa è la sintesi della ricerca ok non ho il tempo di dirvi due cose sulla ricerca sulla seconda indagine vero? faremo un altro convenio faremo un altro convenio ok volevo solo farvi vedere questa cosa veramente ho un minuto allora la indagine recente ha riguardato 250 comuni a me sono persi interessanti avevo proprio inserito tre tabelle questa allora i minori in carico ai servizi per età rilevati quindi anno 2014 guardate le fasce di età è bassissima quella degli 0-3 questo ci dice come dire che non che non sono maltrattati perché i dati che ci portava la stessa dottoressa Simonelli dice che in realtà a livello internazionale il 30% riguarda proprio bambini molto piccoli ma che intercettiamo troppo tardi il disagio e che quindi poi vanno ad aumentare le prese in carico nelle fasce di età successive ed è molto alta quella della fascia adolescenziale quando tra l'altro è molto più difficile fare degli interventi di cura di protezione riparativi e quant'altro ok questi sono i dati sulle tipologie di maltrattamento e questi sono gli interventi di cui beneficiano questi utenti minori vittime e sono dati di natura sociale perché l'indagine è avvenuta attraverso il contributo dei comuni non abbiamo in Italia i dati sugli aspetti sanitari e anche questa è una cosa su cui riflettere infatti per quello trovate tra gli interventi a valore più alto l'assistenza economica al 27% mi fermo tutta la documentazione di cui vi ho parlato le ricerche sono accessibili o sul sito Cismai o anche sul sito del garante dell'infanzia che ha promosso questa seconda indagine quindi è materiale a disposizione grazie grazie a tutti grazie a tutti